Piegare di memoria dall'esterno possono sembrare qualcosa di molto freddo, perché tu vedi tutti questi concorrenti chiusi in una stanza davanti a un computer con un muro di numeri, di mazzi di carte davanti, sembra freddo, irrazionale. In realtà è l'opposto, noi dentro le nostre menti in quel momento viaggiamo in percorsi dell'infanzia collocando immagini personali di persone che conosciamo, oggetti, persone famose che svolgono azioni dentro l'asilo dove sei andato da piccolo. È molto emotivo, è molto personale quello che noi facciamo nella nostra mente. Siete ancora di quelli che hanno paura della scelta universitaria, che sono in mezzo a dei dubbi sul proprio futuro? Beh, c'è Cogito Ergostem, il nuovo podcast del Politecnico di Bari, in cui cerchiamo di scandagliare i dubbi sul futuro, intervistando persone interessanti che hanno fatto scelte, che hanno affrontato i propri dubbi e che ne sono uscite con dei successi da raccontarci. E quindi bentrovati in questa terza puntata. Se avete perso le puntate precedenti, recuperatele, poi tornate qua per questa terza puntata in cui abbiamo altri ospiti magnifici. E io, Rick Tufer, sono insieme al rettore Francesco Cupertino, bentornato Francesco, e ovviamente ad Alessia Bonometti di Ingegneria Italia. Ciao a tutti, ciao. Tutto bene? Siamo pronti per partire? Carichi. Carichi, anche perché oggi abbiamo altri due ospiti straordinari. Il primo ospite è Andrea Muzzi. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti. Andrea è campione di memoria. Sotto tanti aspetti è, credo, il fulcro italiano delle tecniche di memoria. È l'esempio che tanti giovani prendono per imparare non soltanto a memorizzare le cose. È un campione di mnemotecnica, che cercheremo un po' di capire che cosa significa e come funziona. Ma è anche un divulgatore scientifico. È una persona che parla molto di metodo di studio, di capacità cognitive. E oggi avremo un sacco di cose di cui chiacchierare. Quindi benvenuto a Cogito Ergo STEM. Dopodiché abbiamo l'architetto Palma Librato. Benvenuta. Buongiorno a tutti. Ci racconterà della sua esperienza. È un architetto molto, molto attivo sul territorio pugliese e che ha un sacco di aneddoti da raccontarci. Quindi aspetto con piacere di farci questa chiacchierata. Prima di tutto, però, come sempre, il filosofo, insieme al nostro Renatone Cartesio, è qua per guastare un po' la festa e fare quelle chiacchiere che i filosofi, insomma, sanno fare così bene o così male. Poi deciderete voi. Perché il dubbio va scandagliato sotto altri punti di vista. E visto che oggi parleremo molto delle capacità cognitive, della memoria come facoltà, che forse è in crisi in questa epoca, della paura dell'oblio, da ogni punto di vista abbiamo paura di dimenticare e di essere dimenticati. Il dubbio, in realtà, ha molto a che fare con l'immagine che abbiamo di noi stessi, della nostra capacità. In fin dei conti, la filosofia ci insegna, fra le altre cose, che saper dubitare significa, prima di tutto, saper dubitare dell'immagine che gli altri ci hanno convinti di avere di noi stessi. Noi cresciamo in un ambito ben determinato, con una certa cultura, con una certa famiglia, con certe abitudini mentali, linguistiche, cognitive, e poi a un certo punto siamo chiamati, nella maturità, a mettere in dubbio l'immagine che siamo convinti di avere, perché è un'immagine che gli altri ci hanno dato. All'immagine dell'uno, nessuno e centomila di pirandello, le centomila immagini che nutriamo di noi stessi e che invece magari sono sbagliate, sono insufficienti, sono distorte. E quindi la cosa veramente importante da comprendere è che dubitare dell'immagine di cui gli altri ci hanno convinti è fondamentale. Di nuovo il dubbio torna come alleato, non come nemico, come tentativo di apprendere qualcosa su noi stessi. E credo che gli esempi e gli intervistati di oggi ci insegneranno qualcosa su cosa vuol dire dubitare di ciò di cui gli altri ci hanno convinto. E quindi di nuovo seguire il dubbio, non demonizzarlo, non averne paura, è essenziale per riuscire a fare anche un progresso nella propria vita. Detto questo vorrei cominciare subito con le prime domande. Sei pronto? Sì, assolutamente. Allora Andrea, la prima domanda ovviamente anche perché magari alcuni che stanno ascoltando il podcast non conoscono il tuo lavoro, la domanda è come si arriva a non soltanto i traguardi che hai raggiunto, di nuovo campione di memoria in tantissimi ambiti, adesso ce lo racconti meglio, ma cosa è che ti ha portato alla tua vocazione? Bella domanda, ovviamente è un percorso molto poco convenzionale il mio. Allora, ed è venuto per caso, per curiosità, perché io al termine delle superiori ho iniziato ad imparare queste tecniche di memoria da autodidatta, quindi leggendo dei libri, cercando su internet, perché mi sono accorto che molte delle materie che ci venivano insegnate a scuola erano molto mnemoniche, a volte troppo, poi magari ne parliamo dopo su quanto la memoria sia importante nello studio, su quanto dovrebbe essere importante. Poi avrei avuto anche l'università e quindi ho deciso di imparare queste tecniche. E poi questo mondo, questo percorso, mi è piaciuto più del previsto. Sono diventato più bravo del previsto allenandomi, perché, sottolineo allenandomi, perché non è una dote che io ho scoperto di avere, ma ho sviluppato tramite appunto queste tecniche di memoria che ho imparato e poi ho allenato. E vi racconto anche un aneddoto. Io, quando ho imparato queste tecniche, non avevo mai sentito nominare le gare di memoria, non ne conoscevo l'esistenza. Per caso mi sono imbattuto in queste gare, ho visto cosa facevano questi atleti della memoria, i più forti al mondo, e mi sono spaventato. Ho detto, ma da dove vengono questi alieni? Com'è possibile che una persona sia in grado di memorizzare un mazzo di carte in 15 secondi? Ok, questa è stata la mia reazione. E mi piace raccontare questo aneddoto perché noto negli occhi delle persone, quando vedono i miei record, che è la stessa reazione, che però ho avuto anche io. Poi però ho detto, vabbè, proviamo, proviamo a partecipare ai campionati italiani. Mi piace mettermi in gioco, mi piace superare i miei limiti, e lì è iniziato il mio percorso. Sono arrivato secondo in quella prima gara, e poi durante quell'anno le cose sono andate sempre meglio, finché sono arrivato a vincere i campionati europei e i campionati mondiali. Quindi, in breve, questo è l'inizio del mio percorso nel mondo agonistico. E poi, nella mia vita, si è unita la parte di divulgazione, perché ho deciso di condividere tutte queste tecniche e anche le mie esperienze che ho imparato nel mio percorso su internet dal vivo e tutto il resto. Secondo te, quindi, è vero dire che la scoperta di un percorso di una vocazione nasce comunque dal mettere in discussione l'immagine che avevi di te prima, in precedenza. Questo atto di esplorazione nasce un po' dal dubitare dell'immagine che, che ne so, la tua famiglia, la cultura di riferimento ti ha dato di te stesso. Sì, assolutamente. Anzi, aggiungo un'altra storia della mia vita che conferma ancora di più tutto questo, perché la mia vita universitaria era iniziata con medicina. Io, uscito dal liceo, ho tentato il test di medicina, l'ho superato, mi sono iscritto a medicina. Ho fatto il primo anno con molti dubbi, perché sì, qualcosa mi piaceva, ma non ero convinto. E io, invece, quando faccio qualcosa che mi piace, sono estremamente convinto. Mi appassiono molto e dedico tutto me stesso a quel qualcosa, come ho fatto nelle gare di memoria e poi nel mio lavoro. Questo non era avvenuto con medicina nel primo anno e questo mi ha messo in crisi. Cioè, quel periodo è stato molto difficile per me, ma non sono riuscito a lasciare medicina. Non è una cosa, non è un'attività facile. In generale, l'università, i cambi, vengono vissuti come dei fallimenti, quando invece il fallimento, casomai, è restare in un posto dove abbiamo capito che non dovremmo stare. Ma io non ho avuto il coraggio al primo anno, al termine del primo anno, di lasciare medicina. Mi sono preso un anno per dedicarmi al massimo alle gare di memoria. Quell'anno è andato molto bene e al termine di quell'anno poi ho dovuto di nuovo prendere la decisione che non avevo preso l'anno precedente. E poi ho lasciato medicina, quindi dopo essere stato iscritto due anni, è stato molto difficile. È stato un periodo difficile, pieno di dubbi. E anche perché, menzionando alcune cose che hai menzionato tu, la famiglia, la società, io ho scelto di prendere un percorso molto poco convenzionale, talmente poco che non era affatto definito. Cioè, vuoi lasciare medicina per fare cosa? L'atleta della memoria. Ma non è un lavoro, perché non è come fare il calciatore, non ci si vive. Però io vedevo una direzione nel mondo della divulgazione e dell'insegnamento. Comunque poi mi sono iscritto all'università, ho fatto computer science, una triennale, mi sono laureato l'anno scorso. E poi così si è chiuso il mio percorso universitario, molto travagliato. E quindi anche io ho un background STEM alla fine, però perlomeno in questa fase della mia vita non credo che sarà quella la mia strada. E anche se mi sarebbe piaciuto avere un'altra vita per esplorare anche quelle strade, ma al momento le cose sono andate così. C'è solo una vita, la scelta in realtà ci porta sempre a lasciare per strada delle possibilità che magari però dobbiamo accettare. Il tuo percorso mi ricorda tanto, visto che hai parlato di scelte non convenzionali, io quando ho mollato il lavoro precedente, io facevo il promotore finanziario, cosa che riusciva molto bene, mollato per fare il filosofo sul web. È stato un casino incredibile, ma veniamo al rettore Francesco che sicuramente ha qualcosa da chiedere. Noi ci troviamo un po' in quella che è la casa della tecnologia. La tecnologia spesso è stata vista, soprattutto le nuove tecnologie, come un ostacolo anche alla memoria delle persone. Platone racconta la storia del Dio Teut che va dal re d'Egitto e gli porta una serie di novità. Tra queste novità ci sono i numeri, il calcolo, la geometria e ciascuna di queste viene accolta dal re con grande entusiasmo perché li vede come degli strumenti utili al popolo egiziano. Poi arriva la novità dell'alfabeto. A quel punto il re ferma il Dio Teut e dice caro mio ma qui ti sbagli perché l'alfabeto che tu rappresenti come la soluzione, come uno strumento potentissimo, in realtà sarà un grande danno perché le persone non saranno più costrette a ricordare a memoria, ma potranno andare a leggere sui libri tutto quanto e questo li farà diventare delle persone apparentemente sapienze ma in realtà incapaci di prendere delle decisioni, confondendo un po' la memoria con la capacità di analizzare i problemi e conoscere il mondo. Oggi ci troviamo davanti a un'altra tecnologia che non è quella della scrittura, è quella dell'intelligenza artificiale, che però di nuovo ci pone il dubbio sul fatto che avere un sistema capace di memorizzare tutto possa essere un limite all'uomo. E qui nasce il dubbio se questo sarà un limite oppure sarà uno strumento. Noi al Politecnico siamo convinti che sarà uno strumento e questo strumento deve essere integrato nei percorsi formativi universitari. E questa è una scelta fino a un certo punto perché questa cosa è già avvenuta, già sta avvenendo e quindi è un fenomeno che si può soltanto provare in qualche modo a seguire e a guidare in modo tale da massimizzarne gli utilizzi. Tutti noi siamo inevitabilmente circondati da strumenti digitali che ci aiutano a non dover ricordare tutto e ci aiutano anche in qualche modo come supporto alle nostre decisioni, oltre che il supporto alle attività quotidiane di studio e di ricerca. Ed è su quest'onda che il Politecnico si sta muovendo, cercando di introdurre anche nei corsi di studio un utilizzo consapevole di queste nuove tecnologie. E venendo al nostro Andrea, io anche per verificare se poi tutti noi che utilizziamo quotidianamente questi strumenti, poi alla fine abbiamo avuto un impatto sulle nostre capacità di memoria o addirittura è diventato uno strumento per poterle esercitare, io ti chiederei, ci puoi proporre un esercizio qui da fare insieme per cercare di capire a che punto siamo? Non perché vogliamo venire a farti concorrenza nelle gare di memoria, non ci permetteremo mai. Magari sì, ma magari sì. A sta farlo vincere. Facciamolo vincere, mi raccomando, siamo tutti d'accordo. Ok, un esercizio per tutti quanti? Va bene, magari ci facciamo dare dal pubblico delle parole casuali date in un determinato ordine e poi noi cerchiamo di ripetere quelle parole in un determinato ordine e il primo che non se la ricorda ha aperto il gioco. Wow! Magari ci facciamo dare una ventina di parole. Una ventina di parole a caso. Dobbiamo scegliere una persona. Una persona che qualcuno deve anche trascriverle ovviamente queste parole. Il volontario. Lo scegliamo noi allora, lui. Ok, partiamo. Pappardelle. Io ho già qualche difficoltà, dovrebbe essere idraulico la seconda. No, credo di no, credo, credo di no. Credo sia casa la seconda. Casa. Però dai, te la mandiamo buona. Monastero. Gabbiano. Idraulico, un indizio. T. Tempesta. Il fiume, fiume, suggeriscono fiume. Strada. Mare. Ond. Luna. Sempre figherito. Abbiamo l'indizio, no? Signori. Non è un indizio quello. Terrestre. Mi sembra sia terrestre. Terrestre, straniero. Marziano. Brava. C'è un indizio molto vicino a noi. È molto. Adesso sono troppo vicino. È un po'. Diciamo che più che una tecnica di memoria, questa è una strategia per dire, ah, quella lì toccherà a me. Va bene, va bene. Quindi, intanto, questo te lo sei voluto tu, perché sei tu che hai fatto la domanda del gioco ad Andrea. Sei soddisfatto, Andrea, di quello che è successo? Soddisfatto, sì, sì. Magari posso sfruttare il momento per spiegare come si possono memorizzare queste tecniche e queste parole. In questo caso erano poche, quindi avremmo potuto semplicemente creare una storia in cui ogni immagine si legava alla successiva, ok? Creando proprio una catena di immagini. Ma ancora meglio se noi usiamo la regina delle tecniche di memoria, che si chiama Palazzo della Memoria, che veniva usata dai retori greci e romani, e quello che facciamo è visualizzare queste storie all'interno di un percorso che conosciamo bene, come casa nostra, come un'università, e quindi creiamo tante piccole storie. Ad esempio il monastero, dopo dal monastero scappa un gabbiano, abbiamo un idraulico che scatena una tempesta, questa tempesta va a finire su un fiume, e tutte queste immagini io le visualizzo in un percorso, quindi prima la porta di casa, poi il mobile all'ingresso, poi il divano, e quindi ogni due parole io le vado a collocare in un percorso di questo tipo. Sai che c'è un gioco bellissimo, un gioco di società da tavolo che io adoro, che si chiama Dream, che fa esattamente questa. Tu hai delle carte, che ognuna delle carte porta un concetto, una parola, un'immagine, e ognuno costruisce una storia, e poi chi è bendato e non può vedere queste immagini deve indovinare quelle sono le parole attraverso la storia. E' un gioco bellissimo che ricarica proprio questa tecnica. Non lo conoscevo. E' bellissimo, ti divertisci, anzi facciamo una sera, una sera ci giochiamo perché è veramente molto molto bello. Io, Andrea, volevo chiederti, secondo te l'ingegneria, ma anche le discipline STEM in generale, sono di aiuto per la memoria o qual è la tua esperienza? Allora, rigiro la domanda, cioè secondo me bisogna vedere la memoria e tutte le altre facoltà mentali, il ragionamento e il linguaggio, in funzione di un obiettivo che in questo caso può essere la materia STEM. Quindi non la materia in funzione della memoria, ma il contrario. Quindi che ruolo ha la memoria in una facoltà come questa, come queste, quindi più scientifiche. minore rispetto ad altre materie, perché io poi ho il paragone anche del mio percorso dove prima ho studiato medicina e poi ho studiato informatiche che sono molto diverse come materie. In entrambe, naturalmente, noi usiamo tutte le nostre facoltà mentali, comprensione, memoria, che tra l'altro non sono nemiche, comprensione e memoria sono due facce della stessa medaglia. Però in determinate materie è, non so, 80% comprensione, 20% memoria, come può essere in un esame di matematica, dove comunque, di nuovo, ci saranno delle formule da ricordare, dei procedimenti, ma poi il resto è esercizio e ragionamento. D'altra parte c'è una materia come anatomia, diritto, dove è quasi 80% memoria e 20% ragionamento. Quindi mi piace vedere a queste facoltà come appunto un mezzo. Poi un'altra cosa da sottolineare, secondo me, è che non sono separate. Questo viene confermato anche a livello scientifico, perché anni fa si pensava che, ad esempio, la memoria fosse circoscritta ad una parte del cervello, dentro l'ippocampo. In realtà si è visto che non è così, che è dispersa in tante parti del cervello. Perché questo? Non solo proprio perché è conservata in diverse parti, ma proprio perché è difficile definire la memoria. Perché un conto è analizzare qualcosa di semplice come quello che noi abbiamo appena fatto, che era chiaramente memoria, ricordare delle parole. Ma se noi parliamo di andare in bicicletta, non ha nulla a che fare con la memoria. In realtà se è una memoria procedurale, muscolare, oppure il linguaggio fa parte del ragionamento, no, perché noi dobbiamo ricordarci le parole, il nostro vissuto, il contesto dove siamo. E quindi è molto difficile staccare tutte queste facoltà. Motivo in più per cui non mi piace vedere alla memoria e alla comprensione come nemiche. E motivo in più per cui credo che, nonostante noi dovremmo assolutamente sfruttare la tecnologia e l'AI anche al massimo. Comunque vedo come potenzialmente pericoloso il fatto di delegare intere parti della nostra mente, del nostro ragionamento, a qualcosa di esterno. Perché questo rischio, naturalmente, noi non abbiamo ancora studi a riguardo su tutto questo, sono tutti fenomeni nuovi, ma proprio per questo sta a noi chiederci e dubitare di tutto questo. Quindi tornando al discorso, il rischio potrebbe essere quello di indebolire anche le altre facoltà mentali, proprio perché sono tutte profondamente legate. Quindi non possiamo pensare di eliminare completamente la nostra memoria e darla alla tecnologia senza rischiare di perdere un po', forse esagero, ma anche la nostra identità. Perché che cos'è? Alla fine è memoria. E quindi è tutto estremamente interconnesso. Non so qual è il vostro pensiero a riguardo. Questa cosa che dici è molto, molto importante. Mentre parlavi, anche con l'esercizio che ci hai fatto fare, a me sembra, e tu da esperto magari questo me lo puoi dire meglio, a me sembra che molto spesso la tecnica di memoria migliore sia quella di trasformare un'esperienza intellettuale in un'esperienza vera. Cioè, quando tu fai il palazzo delle memorie, tu stai virtualizzando e ti stai, diciamo così, ti stai mettendo nei panni di qualcuno che cammina all'interno di un ambiente. Noi siamo creature molto esperienziali, quindi noi memorizziamo molto di più le esperienze che non le cose che memorizziamo da un testo. È il motivo per cui, quando ricordiamo le cose del passato, ricordiamo le cose che ci sono state dette e ci sono capitate più che quelle che abbiamo letto in un testo e via dicendo. E quindi mi sembra che la memoria sia molto, molto legata all'esperienza corporea. Sia proprio un gioco di medesimazione memorizzare le cose. Funziona esattamente così. Cioè, le tecniche consistono nel convertire le informazioni, che in genere sono astratte e noiose, no, i numeri, le parole, in delle esperienze che ci coinvolgano non tanto fisicamente quanto emotivamente. Ok? Legarle a qualcosa di nostro. Che ci coinvolge. Che ci coinvolga, sì, esatto. E un altro esempio che mi piace fare riguarda anche le nostre peculiarità. Cioè, una lista della spesa per una persona qualsiasi è difficile da memorizzare. Se noi diamo quella lista della spesa ad un cuoco, il cuoco la vive in maniera completamente diversa e involontariamente crea una sorta di tecnica di memoria perché inizia ad immaginare tutte le ricette che potrebbe fare, un elemento che manca nella lista che gli potrebbe servire per fare una determinata ricetta. Lo vive in maniera diversa. E questo è quello che avviene anche negli scacchi. Gli scacchisti, quando vedono una scacchiera con i pezzi disposti in un determinato modo, riescono ad avere una memoria incredibilmente accurata e rapida. Ma non perché hanno una memoria fuori dal comune, perché poi quella memoria non si riflette nello stesso modo in altri campi, ma perché riescono a ricollegarla alle loro conoscenze molto profonde di quel determinato campo. Quindi vedono la scacchiera e capiscono come i pezzi possono essere arrivati lì, quali possono essere gli sviluppi futuri. Quindi inseriscono quella nuova conoscenza all'interno di qualcosa di molto fitto dentro la propria mente, che come una rete, appunto, essendo molto fitto, cattura quelle informazioni. Ed è quello che io faccio con la mia memoria, con le mie tecniche. Io converto le informazioni, creo delle storie e vivo in maniera molto emotiva quelle storie. Le gare di memoria dall'esterno possono sembrare qualcosa di molto freddo, perché tu vedi tutti questi concorrenti chiusi in una stanza davanti a un computer, con un muro di numeri, di mazzi di carte davanti. Sembra, ripeto, qualcosa di estremamente freddo, irrazionale. In realtà è l'opposto. Noi dentro le nostre menti, in quel momento viaggiamo in percorsi dell'infanzia, collocando immagini personali di persone che conosciamo, oggetti, persone famose che svolgono azioni dentro, appunto, non so, l'asilo, dove sei andato da piccolo come palazzo della memoria. Quindi è molto emotivo, è molto personale quello che noi facciamo nella nostra mente. Sei un contadino. Prepari il terreno per coltivare le informazioni. Il terreno è il tuo palazzo. Questo credo sia una bellissima metafora e ciò mi porta alla domanda che volevo farti. Quanto, secondo te, internet, l'esperienza del web, ha, virtualizzando molto le nostre esperienze, minato la nostra capacità di preparare il terreno per memorizzare, anche per comprendere? Perché credo che sia un punto molto importante collegato a quello che dicevi. È molto impattante e, di nuovo, anche qua siamo all'inizio di un periodo storico sicuramente nuovo, ma già sono usciti negli ultimi anni diversi studi che confermano come un certo uso di tecnologia, come possa danneggiare, non si tratta solo di memoria, ma di un grande insieme di facoltà mentali, ma è tutto legato al modo in cui noi utilizziamo la tecnologia. Come dicevo prima, ovviamente anche io penso sia un enorme strumento utilissimo da imparare, ad usare, da insegnare. D'altra parte, l'uso che generalmente se ne fa quando noi veniamo lasciati a noi stessi è quello dello scrolling senza consapevolezza, che ci porta a spegnere il cervello. Quindi sicuramente servono regole, serve tanta educazione nel capire come usare questi strumenti, perché può sembrare una frase banale, detta e ridetta, ma possono effettivamente essere una minaccia. Io la parola che mi sento di comunicare per un uso più corretto è quello di consapevolezza, per evitare il classico fenomeno per cui noi prendiamo il telefono e ci ritroviamo su un'applicazione senza sapere cosa stiamo facendo, il perché siamo lì, cosa abbiamo fatto negli ultimi dieci minuti o nelle ultime due ore, proprio perché manca la consapevolezza. Negli ultimi anni ci siamo concentrati molto al Politecnico nel rinnovamento di tutte le infrastrutture. Le aule si stanno dosando di strumenti sempre più tecnologicamente avanzati, stiamo integrando i computer nei singoli banchi di tutte quante le aule, stiamo allestendo alcune aule con degli strumenti per la realtà aumentata, la realtà virtuale, che sono sempre di più sistemi con i quali interagiamo quotidianamente, che inevitabilmente trasformano il modo in cui facciamo le attività di studio, di lavoro, di ricerca, però in qualche modo toccano anche la nostra quotidianità, la nostra fisicità, per cui noi siamo costretti in qualche modo alle volte ad adattarci allo strumento digitale che abbiamo davanti. Sicuramente uno dei ruoli degli ingegneri, ma anche degli architetti e dei designer, è quello di cercare di ritrovare delle modalità che permettano a ciascuno di noi di svolgere le proprie funzioni, inclusa quelle di esercitare la memoria, di esercitare un pensiero, di esercitare un'interazione con lo strumento digitale, senza dover cambiare la nostra fisicità. Qual è il tuo pensiero rispetto a questo? Ci può essere un impatto e ci può essere un'attività che anche magari un programmatore di un software, in qualche modo, dovrebbe porsi anche da un punto di vista non soltanto di interazione, di interfaccia uomo macchina, ma anche da un punto di vista etico, rispetto a che impatto possa avere una scelta rispetto alla vita di chi poi utilizzerà quello strumento? È una domanda molto difficile. Io infatti non credo di avere una risposta. Quello che posso dire è che, secondo me, l'importante è che, tornando al discorso di prima, attività di questo tipo non vadano a sostituire completamente delle attività che possiamo fare noi, a meno che queste non siano automatizzabili anche da noi, quindi attività che noi possiamo fare senza pensarci troppo, e quindi invece che possano essere un aiuto, non una sostituzione. Però naturalmente è un tema complesso e del quale io non sono esperto e non riesco, cioè non ho abbastanza dati per dare un'opinione al di fuori di questo piccolo dato. Andrea, c'è una tecnica di memorizzazione di cui ho sentito parlare, che è il metodo dei loci. Dei loci, come non so, adesso mi direi tu, loci. L'hai detto in bresciano alla fine. L'ho detto in bresciano, alla fine è andata così. Volevo chiederti, non ho mai capito bene come applicarlo, e voglio di spiegarci un po' come poter utilizzare questa tecnica mnemonica. Allora, il metodo dei loci è un altro nome che viene dato al palazzo della memoria, che è quello di cui abbiamo già parlato prima, è la stessa tecnica. E' interessante però come abbia tanti nomi, e come questa tecnica sia stata usata in modi molto simili in luoghi molto diversi della Terra, in tempi molto diversi, usata da Cicerone, adattata alla natura addirittura dagli aborigini australiani, ma il principio è sempre quello di sfruttare dei luoghi che noi conosciamo bene per incamerare delle informazioni. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere un luogo, che può essere esterno, interno, una casa, un'università, e creare un percorso mentale di punti all'interno di quel luogo. In una casa io mi posso muovere a partire dalla porta d'ingresso, poi ci sarà, non so, un mobile, il salone, e creo dei punti all'interno della casa. Ok? Un percorso mentale. Una volta che io faccio questo, mi ritroverò con una sequenza ordinata di punti, no? Dal primo all'ultimo, che sono i loci, locus al singolare. Cosa posso fare? Quando ho una lista di informazioni, una grande quantità di informazioni da ricordare, può essere un mazzo di carte, una sequenza di parole, possono essere gli step di un processo che devo imparare per, non so, un esame di fisica, oppure tutti i nomi, tutte le origini del muscolo, dell'esame di anatomia che sto, dei muscoli degli esami di anatomia che sto preparando, mi ritrovo quindi con una sequenza di informazioni. Cosa posso fare? Posso associare ognuno di questi punti del mio palazzo della memoria, quindi ognuno di questi loci, alle informazioni che devo ricordare. Ok? Nel nostro caso di prima, io posso inserire una parola o due, tre parole in ognuno di questi loci, sfruttando la visualizzazione e l'associazione. Quindi, per riassumere, è una tecnica che ti permette di sfruttare dei luoghi per incamerare delle informazioni e sfrutta il modo in cui noi siamo fatti, perché noi tendiamo a ricordare molto bene le immagini e la disposizione delle immagini negli spazi. Mentre abbiamo difficoltà a ricordare i suoni e le parole fuori contesto. Noi dobbiamo dare fisicità alle informazioni, perché siamo alla fine degli uomini primitivi, che dovevano ricordare i percorsi, non le parole e i numeri. Uomini primitivi con lo smartphone. Mi viene a dire su questo che, in realtà, una delle cose... Io facendo teatro comunque ho utilizzato tecniche di memoria, ancora adesso ne utilizzo. E io mi sono reso conto che quella preparazione del terreno, di cui parlavamo prima, ha proprio quello che viene chiamato spillover effect, cioè nel senso l'effetto di traccimazione. Cioè quando tu alleni la memoria in questo modo, alleni il terreno neurale per accogliere meglio le informazioni, tantissimi ambienti della vita migliorano. Le relazioni, per esempio. Cioè magari qui si sottovaluta spesso che una tecnica di memoria possa avere soltanto l'effetto di farti ripetere memoria, una poesia o cosa del genere. Ma in realtà riuscire ad allenare nel modo in cui dici tu la materia cerebrale per incamerare informazioni proprio ti allarga la testa. È come se vedessi più cose, ti accorgi di più cose. Quindi in realtà allenare la memoria significa anche proprio allenare tutte le facoltà cerebrali. Questo è importante. Sì, proprio per quello che dicevamo prima, quindi per il fatto che la memoria è molto connessa a tutte le altre facoltà. Io ricordo che quando ho iniziato ad allenare la mia memoria per le prime volte facendo queste attività difficili, mi sono reso conto che nelle settimane successive riuscivo anche ad essere più concentrato nelle attività al di fuori di quegli esercizi. Oppure spesso mi capitava, come capita a tutti, di andare in una stanza e dimenticarmi perché ero andato in quella stanza. Ecco, mi succedeva di meno. E ho iniziato a notare come io potessi essere più prestante mentalmente, più concentrato e più mi allenavo, più miglioravano queste facoltà. Anche qui, di nuovo, tutto questo poi è stato confermato dalla scienza con degli studi fatti su noi, memory athletes, ed è stato visto che la vera differenza, cioè noi non abbiamo paradossalmente una memoria fuori dal comune, proprio perché noi la attiviamo tramite le tecniche della nostra memoria, e quindi non è passivamente infallibile la nostra memoria, ma noi abbiamo una concentrazione fuori dal comune tramite la quale possiamo attivare a piacimento la nostra memoria. E poi la concentrazione è quella facoltà mentale che ci permette di fare meglio tutto quanto. Cioè qualsiasi lavoro, specialmente i lavori intellettuali difficili, ovviamente per essere fatti bene, richiedono un'enorme concentrazione. E qui ci possiamo collegare anche a diversi temi che abbiamo trattato prima, compreso l'uso delle tecnologie, che rischiano a volte di danneggiare la nostra capacità di concentrazione, che di riflesso ci impedisce di fare bene quello che facciamo. Ma non solo a livello lavorativo, pratico, ma anche a livello emotivo. Cioè essere concentrati significa anche potersi vivere meglio un bel momento, una passeggiata, stare con una persona senza pensare ad altro, senza distrarsi con il telefono. Quindi è un'abilità tremendamente trasversale quella della concentrazione. Cartesio ne parlava di questa cosa qua. Cartesio parlando di concentrazione diceva che la concentrazione umana è la capacità di ascoltare meglio il proprio cervello. Quindi è il cervello che si accorge di se stesso molto di più. Credo che sia un po' questo quello che stiamo dicendo. Alla fine dei conti sei più consapevole dei meccanismi che portano a produrre emozioni, esperienze, relazioni. Pensa soltanto anche alla capacità di parlare, all'eloquenza. L'eloquenza migliora quando tu migliori la capacità di memorizzare cose, quando migliori l'accoglienza dell'informazione da parte del tuo cervello. Quindi è fondamentale. Ma Cartesio è un vecchietto, ha 400 anni, ok? Tante persone ti direbbero ma tu Andrea Muzzi sei un giovincello, sei ancora elastico mentalmente, cioè tutto quello che ti capita diventa oro colato. Tu cosa diresti a una persona che è convinta che l'età è così fortemente legata all'elasticità cerebrale e alla capacità di memorizzazione? Allora è vero che le facoltà mentali sono legate all'età e il nostro declino cognitivo tra l'altro inizia molto prima di quanto noi pensiamo, generalmente a 25 anni. Ma il declino inizia... Il mio è cominciato a 60, cioè devo ancora cominciare. Cioè molto molto tardi. Il mio è a 15, quindi nonostante questo però sono riuscito. Però la cosa interessante è che noi iniziamo a perdere le facoltà che non usiamo e infatti molto spesso il declino vero si nota nelle persone dopo la pensione per cui non è tanto legato all'età quanto è legato all'attività. Nel mio mondo, quello delle gare di memoria all'inizio di questo mondo qualche decina di anni fa e quindi quando c'era meno competizione ma comunque cominciava ad esserci, ci sono stati dei campioni mondiali di memoria quindi i più forti al mondo anche over 40, ok? E pensando che il picco cognitivo avviene intorno ai 20 insomma è un dato abbastanza rilevante per cui per dare una risposta sì, ovviamente c'è una correlazione con l'età ma questa può essere assolutamente contrastata e migliorata tramite l'esercizio. Io ho insegnato tecniche di memoria anche a persone anziane e possono assolutamente essere imparate perché quelle facoltà mentali che ci servono per usare queste tecniche e quindi per migliorare notevolmente la nostra memoria le abbiamo tutti cioè la capacità di creare associazioni di percepire delle emozioni di visualizzare delle immagini non necessitano del cervello di un ventenne quindi possono essere fatte a qualsiasi età e anzi forse le persone anziane quando cominciano ad avere problemi di memoria ovviamente escludendo la parte patologica possono beneficiare ancora di più dell'uso di queste tecniche. Da queste cose che magari possono apparire anche un po' astratte veniamo poi al concreto e quindi vorrei chiedere all'architetta Palma Librato un po' di raccontarci la sua esperienza visto che comunque sei qui come ospite che fa parte del territorio noi siamo forestieri qua tu sei del territorio quindi se vuoi raccontarci un po' il tuo percorso. Dunque va bene io rientro diciamo ritorno in quest'aula dove mi sono laureata quindi grande emozione molto cambiata molto rinnovata lo diceva prima il rettore che insomma stanno rinnovando un po' di ambienti però come dire l'emozione è quella e ho iniziato gli studi da studentessa fuori sede quindi all'epoca era proprio un come dire lo studente fuori sede era conosciuto e riconosciuto rispetto ai ragazzi in sede quindi una persona totalmente fuori rispetto al contesto che piano 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 mordichiava la conoscenza lo studio quindi anche le amicizie perché la facoltà di architettura ci dava la possibilità di raggrupparci fare amicizie aiutarci e quindi c'era da un lato diciamo lo studio singolo della persona in cui dovevi dare il massimo dovevi impegnarti allenarti e poi c'era invece il confronto con con gli altri e quindi questo lavoro di gruppo che poi rimane nella professione perché nelle nelle attività concrete attuali della professione ci sono dei team dove appunto ci sono diverse competenze quindi si lavora sempre in squadra quindi quello che si insegna in facoltà poi in effetti è un humus un terreno diciamo che rimane anche nella professione quindi ho studiato qui a Bari mi sono laureata e ho fatto un'esperienza di dottorato di ricerca qui al Politecnico era il primo ciclo ricordo del Politecnico in sede a Bari un'esperienza bellissima che mi ha fatto viaggiare tanto e studiare e anche migliorare il metodo di studio che è alla base in effetti il metodo è alla base di tutto sia nello studio diciamo nel proprio nel raggiungere gli obiettivi e il metodo che conta ma anche nel lavoro è il metodo che conta quindi le conoscenze poi si fanno giorno dopo giorno si approfondisce si studia sempre ma è il metodo che conta e quindi un metodo che ti viene un po' dal liceo che poi viene forgiato e come dire coltivato durante l'università e poi continua dopo quindi dopo il dottorato ero un po' combattuta perché da un lato ero come dire molto attratta dal lavoro quindi dalla concretezza dei progetti quindi il metodo scientifico come viene effettivamente travasato e trasformato in architettura in un progetto che potesse essere un piccolo progetto o un grande progetto e quindi ero attratta da questa ma attratta anche dallo studio quindi poi tra i due ho scelto la professione e cerco lì di mettere a punto quello che ho imparato diciamo durante le università e durante il mio dottorato fantastico quindi diciamo così che poi la professionalità è anche sempre un continuo interscambio fra informazioni apprese e l'applicazione che è legata comunque in modo molto molto forte quello che dicevamo quando l'informazione diventa viva perché il cervello è elastico e ricettivo allora la concretizzazione di un'informazione diventa più facile assolutamente quindi grazie mille e insomma complimenti per i progetti in bocca al luo per il futuro adesso io mi sento il presentatore della RAI che dice è giunto il momento del dubbione ok allora il dubbione è questo però visto che stavolta è complicato io devo leggerlo quindi mi perdonerete allora che tipo di tirocini si possono effettuare scegliendo il corso di laurea triennale in ingegneria informatica e dell'automazione sicuramente l'attività di tirocinio è una delle attività fondamentali nella formazione di un ingegnere perché l'ingegneria è una scienza applicata e ha bisogno di un confronto poi con i luoghi in i quali si svolgono le attività professionali in particolare il corso di laurea di ingegneria informatica e dell'automazione si articola su tre percorsi su tre curricula uno che guarda alle applicazioni informatiche uno che guarda all'ingegneria dell'automazione e un altro che si chiama P-TECH che è un nome strano che in collaborazione con IBM è derogato nella città di Taranto il progetto P-TECH per IBM è un progetto mondiale loro l'hanno implementato in giro per il mondo si seguono i ragazzi fin dal terzo anno della scuola secondaria superiore e quindi c'è un percorso che loro affrontano che li avvicina a queste tematiche e poi viene continuato con un percorso di laurea già il fatto di avere questa stretta correlazione con un'impresa come IBM dà l'idea della possibilità che poi questi nostri interlocutori siano anche coloro i quali ci diano la possibilità ai nostri studenti di poter effettuare delle attività di tirocinio per cui ci sono dei crediti che è la misura con la quale si dovrebbe stimare il lavoro dello studente già nel percorso triannale e poi di nuovo per chi dovesse continuare il percorso magistrale ci sono dei crediti dedicati al tirocinio con i quali si possono fare delle esperienze pratiche su quest'onda della collaborazione con le imprese il Politecnico di Bari ha avviato il progetto dei laboratori pubblico privati noi abbiamo dal 2010 delle aziende che svolgono le loro attività di ricerca e sviluppo all'interno dei laboratori del Politecnico la prima di queste è stata AvioAero che è un'azienda che si occupa di tecnologie aeronautiche che oggi ha 80 ingegneri che lavorano all'interno dei laboratori del Politecnico di Bari sviluppando soluzioni che vanno dalle centraline di controllo per i motori aeronautici alle tecnologie per la riparazione di componenti metallici con manifattura additiva quindi con la stampa 3D per stampare le palette delle turbine e su quest'onda di laboratori pubblico privati ne abbiamo attivati 16 e quindi questi spaziano dai temi dell'analisi della qualità della farina nel processo di molitura del grano fino ai sensori basati su tecnologia optoelettronica per rilevare gas anche in piccolissime quantità che poi magari si scopre avere applicazioni in campo biomedico ci sono degli test che stiamo facendo per la diagnosi di malattie tumorali dall'analisi del respiro grazie a questa capacità di questi sensori di riuscire a determinare anche piccolissime concentrazioni di alcuni elementi biologici che sono in qualche modo elementi di diagnosi di una certa patologia quindi il fatto di avere delle aziende che non sono altrove sono all'interno del Politecnico basta se i ragazzi che volessero esplorare questo Politecnico basta fare una passeggiata e si vedono nomi di grandi aziende multinazionali ma anche aziende locali che hanno i loro uffici all'interno del Politecnico e quindi questo a manifestare ancora di più un'attenzione verso questa tipologia di esperienza che sempre di più deve essere unita a doppio filo con i percorsi formativi il nostro cervello secondo te è come un hardware che immagazzina dei dati o a volte fallisce perché capita spesso di dimenticarsi le cose penso capita a chiunque e quindi qual è il problema nel momento in cui ci dimentichiamo qualcosa cosa fallisce nel nostro cervello in realtà non è necessariamente un problema anzi noi la maggior parte delle esperienze che viviamo le dimentichiamo e c'è un fenomeno chiamato curva dell'oblio che mostra come addirittura la maggior parte dell'informazione viene dimenticata nelle prime ore per poi rallentare successivamente questo non perché noi non abbiamo sufficiente spazio perché anzi a livello teorico il nostro cervello può immagazzinare una quantità di dati che poi nella pratica non verrà mai raggiunta non è quello il punto il punto è più pratico cioè il nostro cervello deve selezionare le informazioni importanti e quelle non importanti perché riceviamo una quantità di stimoli continuamente di input infinita però il nostro cervello è molto bravo in questo nella maggior parte dei casi e quindi la nostra mente registra solo quelle informazioni che vengono ritenute importanti quindi sono una piccola parte le tecniche di memoria in questo caso hanno il ruolo di far credere alla nostra memoria che determinate informazioni siano importanti perché quelle parole di prima non erano importanti ma dando loro un contesto creando una storia ho ingannato la mia memoria ho fatto credere che fossero importanti per cui non è un problema noi siamo fatti per dimenticare gran parte delle informazioni però dovremmo imparare questa abilità di saper memorizzare a comando cioè una volta davanti delle informazioni e so che quelle sono importanti ma il mio cervello primitivo non le percepisce come importanti io dovrei essere in grado di capire tramite tecniche come queste come farlo ecco mi sento di aggiungere due cose su questo il primo è per fortuna dimentichiamo un sacco di roba se ricordassimo tutte le litigate fatte col nostro partner non avremmo relazioni che durano a lungo termine prima di tutto però poi pensa quanto è dannoso infatti la fruizione visto che ne parlavi prima di contenuti un'enorme quantità di contenuti che sono disegnati per essere dimenticati velocemente cioè quando noi prendiamo e stiamo su tiktok tre ore e mezza a guardare e fare swipe di contenuti noi quelle sono cose che veramente sono fatte per essere dimenticate nell'arco di pochissimo se tu abitui e questa è una domanda che io mi sento di aggiungere se tu abitui il cervello a dimenticare a priori perché fai esperienza soltanto di cose insignificanti di fatto cosa accade al cervello secondo te? io la vedo diversamente vai cioè è proprio la complessità e la varietà e la rapidità di questi contenuti che in realtà porta ad alzare l'asticella di ciò che è interessante cioè quei contenuti non è vero che sono fatti per essere dimenticati è il modo in cui noi fruiamo di quei contenuti e la loro frequenza che fa sì che noi ci abituiamo no? e quindi perché se noi mostriamo contenuti di questo tipo ad una persona che non li ha mai visti rimane molto colpita ok? il problema è proprio che fare prendere questa abitudine farlo sempre di nuovo alza l'asticella di ciò che per noi è interessante e ciò che è sotto questa asticella non viene recepito non viene approfondito non viene pensato non viene ricordato il problema è che questa asticella non è circoscritta al telefono al scorrere contenuti è a 360 gradi per la nostra vita quindi ci abitua proprio a vivere in maniera diversa spesso più anche di nuovo questo ci fa pensare per l'ennesima volta come tutto sia connesso perché questo effetto non si ha solo sulla memoria relativa a quei contenuti ma anche l'emotività perché porta a vivere in maniera più annoiata proprio perché noi siamo abituati a vedere troppe cose non troverai più l'avventura di pulire il pavimento a casa di lavare i piatti quell'avventura che doveva essere interessante invece adesso dici no ma che noia quegli stati meditativi che fanno benissimo al cervello e alla nostra emotività assolutamente è così ricchi io farei una domanda ad Andrea che potrebbe essere un suggerimento per i ragazzi c'è un nesso tra la qualità e lo stile di vita e la capacità di memorizzare il sonno la veglia la regolarità con la quale uno gestisce la propria quotidianità il fatto di gestire dei momenti di pausa dei momenti relax perché poi l'attività di studio spesso lo dicevamo anche prima molto dipende dal metodo di studio il metodo di studio vuol dire anche decidere di scambiare il giorno con la notte oppure avere una vita più regolare la tua esperienza essendoci anche passato di recente da un percorso universitario quale che impatto ha sul rendimento universitario c'è un nesso strettissimo tra tutti gli elementi menzionati e la nostra mente quindi il sonno lo sport la dieta la regolarità ora questo non significa che gli universitari debbano fare la vita da monaci anche perché la vita universitaria è anche vita sociale però riporto la mia esperienza noi addirittura ci definiamo atleti della memoria proprio perché il tipo di allenamento e di stile di vita che facciamo è molto simile a quello degli atleti io negli anni più intensi della mia carriera da memorizzatore quindi specialmente 2019 poi 2020 21 vivevo alla fine come un monaco perché mi allenavo tutti i giorni tante ore al giorno seguivo orari regolari dovevo sempre dormire bene mi allenavo anche fisicamente mangiavo bene adesso anche però sono un po' più un po' più flessibile ma c'è un enorme nesso perché la mente è prima di tutto corpo noi pensiamo sotto forma di di neurotrasmettitori di ormoni che sono estremamente legati alla nostra fisicità quindi il sonno è un elemento che viene spesso trascurato in favore dello studio cioè oggi mi faccio la notte di studio mi prendo il caffè invece che dormire studio perché così poi so meglio le cose in realtà può funzionare così sul brevissimo termine ma sul lungo termine no anche perché la nostra mente consolida i ricordi nella memoria a lungo termine proprio tramite una delle fasi del sonno tramite la fase REM dove i ricordi del breve termine e anche i motivi vengono poi passati sul lungo termine quindi c'è un nesso fortissimo prima di andare alla conclusione vorrei porre un'altra domanda alla nostra architetta Palma Librato vuoi parlarci di un progetto a cui hai lavorato e che ti ha resa particolarmente orgogliosa anche ovviamente del percorso che hai fatto con il Politecnico sì un progetto anche abbastanza recente un progetto piccolo ma di grande valore per la comunità ed è il restauro del palazzo dell'orologio di una cittadina diciamo della Puglia che è Fasano della provincia di Brindisi perché perché ci ha dato la possibilità di mettere insieme di intrecciare un po' tutte le nostre conoscenze quindi la conoscenza della storia di quell'edificio che cosa è stato quell'edificio nella sua storia che cosa diciamo come materialmente tecnicamente è stato realizzato quindi una conoscenza di ricerca e qui la mia memoria sugli studi fatti diciamo nel passato quindi una ricerca delle fonti di quell'edificio che cos'era quell'edificio come è stato costruito quindi una conoscenza diretta attraverso i saggi andare a scavare a vedere effettivamente come hanno realizzato proprio i muri le finiture di questo palazzo che è stato un palazzo di rappresentanza un gioiello della città e poi come rinnovarlo oggi quindi con le nuove tecniche con i nuovi materiali materiali da un lato tradizionali come per esempio la calce dall'altro innovativi al massimo per avere una resa migliore da qui diciamo i prossimi 50 anni quindi quello per me è stato particolarmente importante perché mi ha dato la possibilità di allenarmi quindi mettere in discussione sempre quindi farmi venire il dubbio su che cosa era che cosa hanno utilizzato perché studiare bene diciamo anche i documenti abbiamo trovato i capitolati storici cosa volevano dire cosa volevano dire con questo tipo di materiale e poi come dire creare restituire alla collettività qualcosa che per loro è molto importante senza far vedere la mano diciamo di chi oggi nel 2023 che è l'anno in cui è stata realizzata l'opera diciamo ha fatto quindi noi eravamo completamente come dire in ombra rispetto alla storia del palazzo certo e qui è proprio la memoria che prende una forma concreta unendo conoscenza e poi tecnica e concretezza praticità molto bello molto bello ringrazio molto Andrea ringrazio moltissimo Palma se vogliamo prendere e riassumere in tre consigli e poi vi chiederò anche un consiglio a testa finale questa chiacchierata io direi che la prima cosa che io personalmente ho appreso è ricordare che il cervello è un terreno da coltivare cioè abbi cura dei tuoi neuroni perché bene o male sono tutto quello che hai per sopravvivere e vivere meglio la seconda cosa è cerca sempre di gestire con dubbio l'immagine che hai di te stesso quindi metti in discussione cerca i feedback e magari prova anche a metterti in gioco in novità scoperta e questi aspetti fondamentali e il terzo aspetto che è emerso il terzo consiglio è utilizza i tuoi strumenti come strumenti tecnologici come alleati e non come nemici non lasciare che l'insignificanza dell'uso scontato di questi strumenti renda insignificante la tua esperienza ma usa questi strumenti che siano gli smartphone i computer o l'intelligenza artificiale per rendere più significativa l'esperienza che fai del mondo questi sono i tre consigli che io mi porto a casa chiedo a Palma e Andrea un consiglio finale che dareste a quelli che stanno ascoltando consiglierei ai futuri studenti agli studenti delle facoltà diciamo di questo Politecnico di studiare le cose che vengono come dire proposte durante tutte le materie con l'idea che un domani serviranno in qualche maniera quindi sono dei semi per diciamo una cultura specifica del domani serviranno sicuramente e quindi la loro formazione quello che fanno oggi nell'università non deve essere non è scollato da quello che faranno domani perché è la base su cui poi svilupperanno con grande volontà con grande anche sacrificio i loro obiettivi che per raggiungere gli obiettivi diciamo sicuramente c'è molto sacrificio ma anche molto divertimento perché sono facoltà che come dicevo prima dando la possibilità di confrontarsi con gli amici con gli altri studenti e quindi anche di divertirsi molto io in questo minuto in cui ho dovuto pensare al mio consiglio ho cercato di trovare qualcosa che potesse unire il mio argomento memoria ma soprattutto metodo di studio con l'aspetto anche ingegneristico se vogliamo ed è quello il mio consiglio è quello di dividere in sottopassaggi qualsiasi cosa questo è un qualcosa che immagino sia molto presente nell'ingegneria la suddivisione in problemi minori da risolvere ha a che fare anche col metodo di studio perché il metodo di studio è diviso in fasi in cui noi andiamo a risolvere compiti specifici ma soprattutto ha a che fare anche con la vita in generale cioè il mio consiglio quello che io faccio che mi piace mi fa sentire vivo è avere un grande obiettivo molto difficile molto bello da raggiungere in cui crediamo ma poi dividerlo in tante piccole attività pratiche e precise da fare ogni giorno perché sì è bello avere un grande obiettivo ma può anche spaventarci se invece noi ogni giorno abbiamo qualcosa di molto piccolo e di concreto da risolvere su cui lavorare ecco così credo possa funzionare molto bene quindi questo è il mio consiglio anche qui a Cogito Ergostime abbiamo un grande obiettivo che è quello di trasmettere il valore del dubbio e far iscrivere le persone al Politecnico scomposto in 5 puntate le prime tre le avete viste ci vediamo per la quarta a Cogito la cagà è la cagà Grazie a tutti.